Musica Dopo quello avvenuto all'interno dello stabilimento Alenia a Torino, un altro recupero di un capriolo in ambiente urbano da parte degli agenti faunistico-ambientali del servizio Tutela Fauna e Flora della provincia. È successo a Susa, dove il personale dell'Istituto di Istruzione Superiore Enzo Ferrari ha segnalato agli agenti della provincia la presenza di un maschio adulto che ormai da alcuni giorni pascolava nei prati del cortile posteriore. Il cortile dell'Istituto Ferrari è chiuso da un muro alto 3 metri e da una parete rocciosa, il che precludeva al capriolo qualsiasi via di fuga. È possibile che l'animale sia caduto all'interno del recinto della struttura scivolando dalla collinetta sovrastante. Il complesso scolastico confina poi con la sede di una ditta di costruzioni, con annesso autoparco e con quella di una concessionaria di auto, anch'esse recintate da muri e cancelli invalicabili per un capriolo. Esiste quindi soltanto uno stretto passaggio, costituito da un canale irriguo che scorre tra il cortile della scuola e quello della concessionaria. È appunto questo esiguo passaggio che il capriolo ha utilizzato per spostarsi nell'autoparco. Gli agenti del servizio tutela fauna e flora hanno quindi obbligato il capriolo a rifugiarsi in uno spazio ristretto senza via di fuga e poi, con l'ausilio di una rete per la cattura, lo hanno immobilizzato e introdotto in un'apposita gabbia per il trasporto. Poi è stato liberato in luogo idoneo in località Campo all'Ardo di Gravere. E dei gatti di lessolo avevamo parlato purtroppo nella cronaca, dopo che alcuni di loro erano stati uccisi. Una colonia che vive da sempre nella piazza intitolata da Adriano Olivetti, curata ed accudita da Maria Rosa e Marino Orore. Ebbene ora i gatti di lessolo approdano a Cinema Ambiente, con il video Vita da Randagi, che sarà proiettato lunedì 3 giugno alle 22 presso il BlaBla di Torino. E noi vi proponiamo allora il trailer. Grazie a tutti. Loro sono Willer e Sofia, sono inseparabili. Sono cani arrivati qua insieme, sono cani che vivono da tutta la vita insieme. Lei è giovane, ha un anno e mezzo, lui ha qualche anno di più, 6 o 7, ma sono stati abituati a vivere insieme. Sono arrivati qua insieme e non vorremmo separarli. Come puoi vedere sono due cani molto affettuosi. Guarda, sia Sofia che Willer vengono a prendersi le coccole. Sono due cani buoni, vanno bene al guinzaglio e stanno benissimo insieme, giocano continuamente. Sono ideali per una famiglia che abbia anche dei bambini, un bel giardino e lo spazio dove farli correre e farli giocare. Sono due incroci. Lei è un incrocio, probabilmente c'è qualche cane tipo San Bernardo o qualcosa di grosso, perché un bel cane, un anno e mezzo, deve ancora crescere di qualcosettina. Un pastore bernese, non lo sappiamo. Lui è un tipico cane da pastore. Lui ha finito di crescere e così, e tutti e due sono in piena forma. Sono cani innamorati, sarebbe bello per loro avere un'adozione in coppia. Un'adozione che gli possa permettere di continuare a vivere insieme, come erano abituati a fare. E con Elisa ha un'altra bellissima coppia, un lui e una lei davvero particolari. Questa serenella è una mission impossible, perché Max e Mara sono due labrador, incroci labrador. Lei è molto labrador, quasi pura. Lui invece ha il pelo un po' più lungo. E tutta la vita che vivono insieme. Hanno passato un mucchio di avventure. Ti posso solo dire che hanno girato quattro canili differenti. Non perché siano dei cani cattivi, anzi sono dei cani meravigliosi, come puoi vedere da quante coccole si prendono, da come sono affettuosi. Hanno sempre avuto sfortuna. Sono sempre arrivate delle famiglie che per una ragione o per l'altra non hanno più potuto tenerli. Loro vivono insieme da sempre. Lui è del 2004, lei è del 2006. Separarli sarebbe, non dico ucciderli, ma terribile per chiunque di loro due. Soprattutto per lui, che ormai ha lei come riferimento, perché lei è molto più forte di carattere. Anzi, se qualcuno vorrà mai adottarli, bisogna fare attenzione, perché devono mangiare uno in un posto e uno nell'altro. Altrimenti lei, che come vedi è bella in carne, ruba tutte le crocchette a lui, che come vedi è molto meno in carne. Ma sono due cani che hanno bisogno di stare insieme e che vanno affidati insieme. Pensa che dolore potrebbe essere per due cani così, essere separati l'uno dall'altro. Mara, la femmina, è assolutamente l'abradone. Molto affettuosa, molto curiosa, molto intelligente, molto volenterosa e molto bisogno di giocare. Lui probabilmente, guarda, guarda che coccolona, lui probabilmente per carattere o per la sua storia ha vissuto un po' più riservato. Però non vuol dire che uno ha voglia di due cani che ti saltano addosso e ti chiedono continuamente le coccole. Anche un cane un po' riservato come Max può essere una buona compagnia, può fare compagnia Mara, senza essere troppo invadente e senza passare la giornata a chiedere le coccole come fa lei. Certo che lei è meravigliosa, però vogliamo trovare per loro un'adozione di coppia. Vi proponiamo adesso un appello del cuore. Neve è una dolcissima amicia, ha 22 anni, ha vissuto tutta la sua vita in una casa con una persona che si è presa cura di lei fin da quando era piccina. Ora per una serie di circostanze di cui è inutile parlare, Neve ha dovuto abbandonare la sua casa. È dolcissima, si fa coccolare molto volentieri, non chiede niente se non un posticino dove riposare e qualcuno che si prenda cura di lei. Convive tra l'altro tranquillamente anche con altri gatti, è sterilizzata e nonostante l'età non ha bisogno al momento di trattamenti specifici. È impensabile condannare un'amicia che ha vissuto 22 anni di vita casalinga al gattile. Neve è adottabile a Torino e provincia, esclusivamente in appartamento. Siamo certi che qualcuno avrà un posticino nel proprio cuore e nella propria casa per lei. Per informazioni su Neve si può chiamare Chiara al numero 348 47 42 948, no sms, oppure mandare una mail a Lieto evento, tanto lieto quanto inaspettato, alla casa del cane vagabondo di Lauriano, che da qualche tempo ospita Margaux, salvata dal macello. Margaux è arrivata in rifugio poco prima di dicembre e soltanto dopo alcuni mesi i volontari hanno compreso che il suo grembo custodiva una bellissima creatura. E così, qualche giorno fa, è venuto alla luce un meraviglioso asinello nero, che potrà stare con la sua mamma sereno, senza costruzioni, senza forzature, in una struttura dove lui e la sua mamma saranno seguiti e protetti. Margaux e il suo piccolo possono anche essere adottati virtualmente, si intende, con un piccolo aiuto. Chi vorrà dare una mano per il loro mantenimento, così come succede anche in altre strutture, riceverà un attestato e costanti notizie in merito al suo stato di salute. Per informazioni e per conoscere gli altri ospiti della Casa del Cane Vagabondo, potete contattare il 328-77-57-508 oppure scrivere alla mail animalistanatachiocciolalibero.it E tra le iniziative organizzate alla Casa del Cane Vagabondo, vi segnaliamo lunedì 9 di giugno, rifugio a porte aperte, al pomeriggio dalle 16 in poi, e sabato, il giorno 15 giugno, la cena benefica vegan, pro gattile di Ivrea e canile di Laureano. La cena si terrà presso il Salone Albatro Saburolo a partire dalle 20.30, il costo è di 16 euro. In chiusura, vi ricordo che il Tg Amici Animali è anche su Facebook, su Twitter e su Youtube, dove potete trovare l'archivio di tutte le puntate e i servizi andati in onda, e che potete scriverci alla mail amicianimali-rettecanavese.tv La cena si terrà presso il Salone Albatro Saburo